Partiti, primo pallone per Bagnara, primo periodo della finalissima, andò il 18 e parte alla grande Bagnara, canestro più fallo di Lopresti, che era un po' presto per parlarne, sbaglia il primo Corapi, realizza il secondo 2 a 1 a favore del basket Bagnara, fetto del canestro di Lopresti e del libero, attenzione tunnel, clamoroso a Bagnara. Madu, Keita, svetta e segna, due punti in posto, lo chiude molto bene, la palla viene registrata da Lopresti, c'è il contropiede, Lopresti si mette in proprio fino in fondo, scarica intelligentissimo e Mollica, canestro. C'è il blocco di Mollica, palla sull'esterno per Caratozzolo, prova la partenza, scarica ancora per Barilà, prova la partenza, lay up in faccia, no Madu, Keita, Bagnara, si può ripartire con Barilà in regia, prova a scardinare la difesa, scarica ancora per Caratozzolo, ci pensa, dalla sua posizione, dalla sua mattonella, realizza, proprio con i locali allenati dal duo russo-Pirrotta, Mollica, prova il tiro, realizza Mollica, massimo vantaggio, secondo scarico sull'esterno per Kindamo da 3, non va, era un buon tiro, ma recupera il suo rimbalzo, imbarba a tutti, segna il subito di nervosismo, ma niente di che, nel frattempo, la partita è totalmente alle mani del Bagnara, Kindamo, passa la palla, Lolo Presti, che tirava a 2 e realizza. Agosto, passa la palla a Mastria, Mastria, ancora per Agosto, scarico in post-bass per David Radakovic, carambola, è canestro, pazzesco. Il baltamento per Corapi, ancora Agosto, finta la tripla, il baltamento ancora per Rotella, lui è un buon tiratore, provando a andare dentro, finta, contro finta. Bellissimo il movimento realizza Francesco Lalo, il passaggio in verticale per Rizzitano, scarico per l'opera, è intelligente, è senso. Agosto e Slalom, va dentro, finta, doppia finta, mamma mia, che magia. C'è subito il gioco verticale dei Pirrenici, Lopresti, Corapi, il baltamento in diagonale per la bomba di Marco Mastria, non si può lasciare Marco Mastria da solo. Lo fa col tavolo gli ufficiali, bomba, bombazza. Di Bagnara, dove giocava anche Brian Oliver quando era la perda, di questo parleremo dell'intervallo, Corapi trova bellissimo il passaggio, Radakovic sbaglia, recupera e realizza. Lasciate di sperdere questo talento, che è davvero molto, molto bravo. 1,55 da giocare, Chinnano, palla sull'esterno per Mollica da 3 della Ligia. Velardo, con Toscari ancora per Mollica, ora per Rizzitano, ancora per Caradoczolo, dalla sua posizione, dice di passare la palla a Rizzitano da 3, alzando la parabola. Poi abbiamo pubblicato sulle pagine Reggio Canestro, dove era a cena con Massimo Rappoccio, che ricordo sempre con estremo. Piacere e gratitudine per averlo conosciuto, si riparte, lo presti, consegnato per Mollica, mano caldissima. Per Radakovic, ancora per Mastria, fronteggio di Canestro, va dentro con la mano adesso a terzo tempo, tutto facilissimo. Marco Mastria, alla rimessa c'è il diverso. Agosto, passa a fare l'avversario, movimento metto a scuola, Canestro d'antologia. Agosto per Mastria, viene in fondo, vola, è reale. Scarico per Chetà, ancora per Rotella, con la mano sinistra, scarico per Marco Mastria. Passa la palla a riverso, se Mastria solo, la bomba di Marco Mastria non va, tapire di Rotella. Ravvolge dell'impianto di Bagnara Calabra. Va dentro, Agosto. Mamma, fuori Mamadou, che età, autore di una bellissima stoppata. C'è il presidente Messina che frene proprio qui accanto a noi. Si può ripartire, riverso alla battuta, dieci punti per le due squadre. E vince di otto Bagnara, per la direzione di l'altore regionale. Molto, molto efficace di crocci, Jacopo Ielasi, passaggio sull'esterno per Kindamo, ho ancora un passaggio nell'angolo per Velardo, con fantasia per Caradozzolo, ho ancora un passaggio sull'esterno, la bomba del Bagnara. Mollica da tre. Mastria, passa la palla da Agosto, gliela ruba Kindamo, pazzesco. Passa la palla al capitano, fa finta, passaggio per Kindamo, da tre punti. Realizza Kindamo! Mamma, è un fattore campo pazzesco. Mastria non molla, da tre punti, Marco Mastria! Kindamo, passa la palla a Barilà, ribaltamento per Kindamo, ancora per Caradozzo, in post basso, in diamoale per Kindamo, Barilà da tre punti. Realizza il capitano! Barilà da tre punti. Bomba di Agosto, è corto, è fatta, è fatta. Bagnara, non è ancora finita, non è ancora finita. C'è ancora un secondino, c'è Gianni Pirrotta che ci deve sottolineare, il suo saluto a Renato Mastria e c'è l'abbraccio! È il titolo regionale per Bagnara, bello l'abbraccio con i ragazzi di tutta Bagnara. Questa è la festa, marchiata Bagnara-Carabra, un momento bellissimo che andiamo a filmare anche noi. Un momento pazzesco. Vince con merito Bagnara all'interno della sfida. Molto, molto bella!